Oh, non è così che immaginavo fosse partecipare a un programma di cucina Credevo che avrei sentito l'amore C'è un'ultima prova e potresti ancora vincere Ma è chiaro che al signor Gore piacciono molto di più i piatti di Fuffington Sai cosa è piaciuto al signor Gore? Il design, perché era del tutto originale E c'era il tuo tocco Ui, è vero Quindi perché non fai un altro tentativo E prepari una fantastica e unica creazione di chaffremi? Se non gli piacesse e io facessi una figuraccia davanti a tutti So che hai paura, ma devi solo essere te stesso Anche se non vincerai, almeno avrai cucinato col cuore Sarò anche uno scheletro, ma io ho un grande cuore Vì, tu sei un'escellente sous-chef E un'amica anche migliore D'accordo, è ora di sbucciare l'arange Ugo, prego Pomodoro trans in mano Sedano Voilà Che odorino spettacolare, Chef Remy Questo piatto sei davvero tu Manca soltanto il mio ingrediente segreto Ok, Chef, pronti a presentare i vostri piatti 3, 2, 1 La mia speciale mousse di salmone Vero, è davvero una delizia Una ricetta originale di Chef Remy Bon, se je dis Anattra detonante, all'orange E senza ombra di dubbio, un'esplosione di sapore Oh oh, forse questo piatto è troppo da Chef Remy Per mille costine, non si è mai vista una cosa del genere Oh, quando hai parlato di un'esplosione di sapore Dicevi sul serio Però, questo è di una bontà straordinaria Non ho mai mangiato niente di così originale e saporito Tu hai una grande conoscenza della chimica Uh, Chef Remy, ce l'hai fatta Clicca sullo schermo per vedere altri video E vai su Disney Junior per seguire i tuoi programmi preferiti